Sicuramente è una partita importantissima perché siamo le due squadre che hanno condotto il campionato dall'inizio fino ad oggi, fino alla fine, perché sarà così fino all'ultima giornata. È inutile nascondersi, è una partita importantissima per noi se vogliamo cercare di agguantare il primo posto. Sicuramente è fondamentale per noi recuperare tutti i nostri effettivi perché oramai sono mesi che veramente siamo rimaneggiati, ci alleniamo in 5-6 e alla stessa maniera la domenica siamo in 6-7. Quindi è veramente importantissimo per questa fase finale del campionato recuperare tutti. Le mie condizioni, la settimana scorsa purtroppo lo stavo davvero male perché ho avuto qualcosa a livello intestinale che mi ha fatto stare veramente sul letto per 5 giorni. Però adesso piano piano mi sto riprendendo, sto bene, quindi spero di essere pronto per domenica. La gara con Latina può essere da crocevia per capire finalmente chi tra le due sarà la prima assoluta nel girone e poi conta davvero essere primi o secondi? Se noi dovessimo perdere purtroppo sicuramente Latina probabilmente avrà 4 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine e sarebbe Latina la squadra che alla fine arriverebbe prima in campionato. Noi invece vogliamo vincere e provarci ad arrivare noi primi in classifica sapendo che comunque in un'ottica di fare un bel playoff, di vincere eventualmente il campionato eccetera, arrivare primo o secondi è importante. Però sappiamo benissimo che comunque per vincere i playoff bisogna battere tante squadre. Quindi o arrivi primo o arrivi secondo comunque bisogna abbatterle. Un giudizio da capitano per il pubblico che sicuramente sarà quello delle grandi occasioni e che forse finalmente riempirà tutto il ponte grande con il derby. Un giudizio è un invito, spero che veramente ci seguano ancora di più di quello che è stato fatto fino ad oggi perché credo che veramente ce lo meritiamo perché abbiamo fatto un grandissimo campionato fino ad oggi. Abbiamo tenuto veramente alto il nome di questa città, siamo stati i primi per lunghi tratti della stagione e probabilmente solo gli infortuni non ci hanno permesso di esserlo fino in fondo per adesso. E poi veramente una partita così prima contro seconda in un derby a tre giornate alla fine penso che veramente non può mancare nessuno.